E' giunto alla sua terza edizione il Global Community Day di Whirlpool, grazie al quale le persone dell'azienda possono dedicare una giornata lavorativa ad attività di volontariato, supportando organizzazioni no profit nella comunità in cui l'azienda opera. Un'iniziativa a cui Whirlpool crede fortemente e che ha visto la partecipazione di oltre 350 dipendenti, compreso Gilles Morel, presidente di Whirlpool Emea. Sono molto eccitato e contento di essere alla strada. È un giorno speciale perché alla Whirlpool il nostro obiettivo è migliorare la vita domestica e qui lo stiamo facendo per le comunità vicine ai nostri uffici, per gli alloggi, perché vogliamo essere buoni cittadini di Milano. Siamo molto fortunati che la strada ci ospiti. Stiamo pitturando, facendo giardinaggio perché quello che fanno importa molto. Loro si prendono cura di coloro che non possono permettersi le cose che tutti noi ci possiamo permettere ogni giorno, senza neanche rendercene conto. Quindi un giorno conta moltissimo per noi alla Whirlpool. 13 le realtà hanno profit coinvolte nei territori, Varese e Milano in Lombardia e Fabriano e Comunanza nelle Marche. Tra esse l'associazione Cafonlus, che offre servizi di accoglienza e cura in maniera specifica e professionale, indirizzati a bambini e ragazzi allontanati dal proprio nucleo familiare. E l'associazione La Strada, che accoglie ogni anno oltre 2.000 persone, offrendo una casa, cure mediche, sostegno psicologico, formazione e orientamento al lavoro. È un bel modo, secondo noi, per mettere il profit e il non profit un po' sullo stesso piano, perché le sinergie e poi le collaborazioni che si creano sono veramente forti. Devo dire che il fatto che poi Whirlpool abbia scelto per il secondo anno di lavorare a fianco della strada, per noi è proprio bello. Vediamo che vuol dire che è un lavoro che viene riconosciuto, quello che facciamo, vuol dire che è una collaborazione importante, intensa, che va avanti. Una giornata importante anche per gli ospiti di Dianova, che si occupa del problema della dipendenza da sostanze come droga e alcol. Siamo felici di accogliere qui dei volontari della Whirlpool, per una giornata diversa dal solito, per far vedere che non c'è solo la tossicodipendenza, ma c'è anche persone che ci possono aiutare per uscire da questo mondo. È una giornata piacevole, diversa, un po' più leggera come giornata, meno pensare più a tutti che a solo noi stessi. Non manca infine il supporto del Comune di Milano, sempre favorevole, a iniziative di questo genere, come spiega il Consigliere Comunale Elena Buscemi. Questi tipi di iniziative sono molto importanti perché permettono di creare un legame molto forte fra le aziende e la realtà territoriali. Il Community Day di Whirlpool, che opera anche in collaborazione con l'associazione CAF Onlus, permette proprio alle aziende di poter dare una mano e comunque essere molto presenti all'interno di realtà territoriali, così legate ai quartieri, proprio come questa che vediamo. Quindi io credo che tenere insieme i due pezzi, da una parte lavoro e dall'altra inclusione e politiche sociali, sia veramente una chiave di volta per poter costruire dei maggiori legami e una coesione territoriale sempre maggiore.